Un messaggio per la terra dei fuochi e per un territorio martoriato. Ieri al concerto dei 99 posti a Napoli si è parlato anche del nostro territorio e del disastro ambientale con grande approvazione del pubblico presente. Alcuni ragazzi hanno anche esposto uno striscione con la scritta stop, biocidio, poi la musica per accompagnare un messaggio di fondamentale importanza per questa terra. Il concerto è poi continuato con i classici della band napoletana. Ospiti grandi artisti italiani come Caparezza. E poi J-Ax, Clementino, Sangue Rosso, una festa della musica con qualche pecca nell'organizzazione. L'evento rientra nell'ambito del forum delle culture messe su dal comune di Napoli, ma purtroppo la gestione non è stata all'altezza di un grande evento musicale. Grazie!